La Formula 1 è un ambiente estremamente competitivo e questo tipo di competizione possiamo vincerla solo attraverso la qualità delle persone, le loro competenze, la loro crescita continua, la loro determinazione a raggiungere risultati e la loro capacità di lavorare in squadra. Fin da bambino ho sempre seguito la Formula 1, oggi finalmente posso dire di farci parte, quando la domenica finalmente mi siedo e guardo la macchina girare in pista non posso che pensare che molte parti di quella macchina le ho fatte io con le mie mani, quindi questo mi riempie di onore e alimenta ancora di più la mia passione per ciò che faccio. Siamo persone che sono sempre curiose e vogliono sempre migliorarsi, non si adagiano sulle proprie convinzioni, sulle proprie credenze, ma sono capaci di ascoltare gli altri e di lavorare in sintonia con gli altri del team. Per me Formula Future innanzitutto è opportunità perché mi ha permesso di entrare in un'azienda di prestigio come Scuderia Alfa Tauri e impegno soprattutto anche da parte dei ragazzi e ragazze di Runstad che appunto hanno creato ad hoc questo percorso. Adesso non ho più sei anni ma l'occhio con cui guardo la macchina quando scende in pista è sempre quello di una bambina innamorata, con la differenza che adesso so cosa c'è dietro, so che posso dire che è un piccolo contributo per far scendere in pista quella macchina, per farla andare veloce e perché no vincere delle gare in piccolo e anche grazie a me. La mia passione è la Formula 1 Formula 1 è la mia passione Qual è la tua? Qual è la tua? Qual è la tua? Segui la tua passione, scegli Formula Future